Manca meno di un mese alla Colle Marathon 2019 e la macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per la diciassettesima edizione. L'appuntamento con l'unica maratona regionale che dalla collina arriva al mare e che attraversa due vallate, cinque comuni e altrettanti borghi storici è prevista per domenica 5 maggio. 12 proloco, 20 associazioni sportive e 500 tra volontari e collaboratori saranno impegnati lungo tutto il percorso di 42 chilometri e 195 metri. Tra loro anche la protezione civile, le forze dell'ordine, il servizio di assistenza medica e Denti e Ollus che come sempre fanno della maratona dei valori un evento sociale e di riflessione su temi importanti. Come la donazione di sangue, la lotta al mieloma e l'integrazione dei popoli più emarginati. Oltre 600 invece sono i runner già iscritti. Il percorso è da barchi, la maratona parte alle 9, si attraversa Mondavio, Terre Roveriesche, Orciano, San Giorgio, Piagge, San Costanzo e si arriva alla Rocca Malatestiana di Fano. Quindi è un bel arrivo dentro la città di Fano e poi c'è la mezza maratona che parte del Mondolfo in contemporanea dove arriva Fano. Persone un po' da tutto il mondo? Sì, l'anno scorso avevamo 18 nazioni partecipanti, quest'anno contiamo di averne di più. Ci sarà una bella presenza di americani, di Chattanooga dove alcuni dei nostri sono andati là a correre e quindi abbiamo aperto un bel mercato. Fino a quando sarà possibile iscriversi? Fino a giovedì prima della gara, quindi chi vuole iscriversi va sul sito infochiocciolacollemaradon.com e lì ognuno può dire la sua poi in campo. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta sabato scorso alla Profiglass di Fano, azienda leader nel settore dell'alluminio che oltre ad aver messo a disposizione la propria sede, alla presenza del presidente Giancarlo Paci e di una nutrita rappresentanza dello staff, ha confermato di dare il suo supporto alla manifestazione riconosciuta tra gli eventi di maggior prestigio della regione Marche. La Colle Marathon comunque è una delle manifestazioni più importanti del nostro territorio, sponsorizza il nostro territorio, le bellezze del territorio ma soprattutto i valori, valori in cui noi ci riflettiamo in prima persona, in cui crediamo e che vogliamo sponsorizzare attraverso la Colle Marathon e anche attraverso l'impegno che poniamo anche con i nostri dipendenti.